Ave Maria, ave, ave Maria, ave. Ave Maria, ave, ave. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ame. Nono giorno. Il Signore è mia luce e mia salvezza, sia Benedetto o Maria, il tanto atteso momento in cui iniziò la salvezza umana con l'incarnazione del Figlio di Dio. In questo ultimo giorno di novena, Vergine Maria, non vogliamo chiederti niente. Tu sai benissimo quello che ci occorre, soprattutto in questo brutto periodo. Vogliamo ringraziarti per il tuo sì a Dio, quel sì che ti rese Madre di Gesù, Madre di dolore e di gioia. Ti rendiamo grazie, Madre nostra, per la tua presenza. Tu sei l'Onnipotente per grazia, regita del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il tuo frutto del seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio che tramite l'annuncio dell'angelo ci hai fatto conoscere l'ingarnazione del tuo verbo nel grembo virginale di Maria. Ti preghiamo di guidarci fino a te per i meriti della passione della croce di tuo figlio e nostro Signore Gesù Cristo e per l'intercessione dell'Immacolata sempre Vergine Maria, sua e nostra tenera Madre. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedicca Dio Onipotente. Padre e Filio e Spirito Santo. Amen. Padre Maria, Padre Maria, Padre Maria, Padre Maria. Padre Maria, Padre Maria.